Nel disagio precedente, Bella non si riesce a trovare da nessuna parte ed è la parte che secondo noi è più importante, ritrovare appunto il nostro cane. Non abbiamo la minima idea di chi abbia fatto la chiamata al nostro brillantissimo detective, ma abbiamo scoperto piccoli pezzi della storia della famiglia che sembrava, sembra, abitare questa casa apparentemente infestata, no, levata apparentemente, palesemente infestata. Per ora tutto quello che sta avvenendo a galla sembrano gli indizi che ci porteranno sicuramente a una morte molto lenta e particolarmente dolorosa. Vi lascio agli ultimi istanti del video precedente e poi gustatevi la seconda parte di questo estratto della live di Twitch di Baisu. Per favore, due secondi. Perché in italiano non l'avrebbe reso. Cacchis Cristo. Scusa, non mi odia, no, Uli, tanto quello non ti odierai mai. Ma cosa, Uli, ma va? Arriva l'armadio di mio padre, Armando, Armando, è bella mio padre. No, niente, meglio. Signora, cosa ha perso? Le lenti a contatto? Lo sto giocando, lo sto giocando. Attenzione che ho buggato il nemico. Ma no, è la bambina, non è la signora questa. No, hai buggato anche questo. Sai che se hai buggato questo non andiamo più avanti? Non ti muovere. Cracciati! L'hai spenta tu la torcia? No. L'hai spenta tu la torcia? No, non si spenta io. Cioè, è sbagata. Ah, ok. La bambina. Però l'avevo buggata. L'avevo buggata, Silvia. Per cane. Comunque, Sildi, è Sildi del Ring, lo stiamo giocando. Fai l'ha fatto la bambola? E siamo, credo, a un quarto ancora. Ah, bambini che ridono. Bugscare, bravo. Bugscare, bravo. Sei bravissimo. Bambini che ridono. Ma mi sembrava una risata di un neonato. Questa qui... No, di un bambino di un anno e mezzo. Oh, ma chi cazzo sei? È il bambino che ha riso. E com'è che si chiama quello lì? Il boom ha fatto. Cioè, bucchie. Bucchine. Ma... Com'è che si chiama? No, 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 no. Non so se si fa la foto. No, ma non hai capito. È un burattino. No, com'è che si chiama quello lì del film? Cioè, raga, ma che è? No, va bene. Vai di più vicino. Allora. Dov'è il mio cane? Lo schiaccianoci. Ma da dove si è uscito, tra parentesi? Ma che schiacciano? C'è il toraccio di una gabbietta per uccelli. Eh no, non è. No. Ho paura di dare le spalle a questo coso. Non è Pinocchio, eh? Che poi dice le bugie, se gli dalle spalle è un casino. Ma hai capito, si è girata la testa. Ah, è girata la testa. Non l'avevo notata. Fotografico ti stiamo facendo. Vai di vicino e fagli una foto un po' piano. Mi sento molto più sicura. Dammi il mio cane! Voglio il mio cane! Ricorrila, ricorrila. Eh, ricorrila. Vai spegnola prima che c'è copyright, subito. Eh, non so dov'è! Comunque non c'è l'autodirezionale in sto gioco. Eccola. Allora, le... Ma io perché? Non è calda! Perché? Eh, la fotografico non ricordo, infatti gliel'ho detto anche io di farlo. Ma ha girato la testa? E si vede, provo a andare a vedere cosa c'è, se lì c'è qualche chiave o qualcosa. Eh, brava che mi ha fatto vedere qua. Ah, no, brava. C'era tipo accesso. Oh, che cazzo è? Ma cos'è quella roba sulla destra? Fatti un attimo. No, non abbiamo cassette. Che cazzo gli metti? Forse c'è già dentro. Non credo. Oh, mi son cagata. Vabbè, eh... Vabbè, lascio acceso, fa un po' di luce. Eh, beh, fa un po' di luce. Quelle piantine lì le vendono anche l'IKEA. Eh, stanno bene là. Eh, al... Son finta, eh? Ma ha girato la testa sta strunza. Perché è colpa mia? Sì, è una coppa di sasha. Fai una fotografico, ma non... Signora? Eh, prendi la scatolina. Te l'ha lanciata, praticamente. Eh? Oh, scusa. Prendi la scatolina. Mi sento più sicuro così. Eh, sì, aspetta. Ma dov'è? Ma è normale? No. Posso... Posso prendere la... Per prendere le power. Portala fuori, portala fuori. Eh, infatti, vorrevo provare... Adesso vomito, eh. Anche io. Prova a usarla col tasto destro, non lo so. Chi ha? Ah. Il primo che proferisce parola... Ma no. Puoi spaccare i vetri con quella? Non lo so, però adesso vado a recuperarla. Aspetta, prima di tutto facciamo una cosa. Devi ripulire il karma, mi sa. Non farla cadere. Non mai. Ok. No. Ok. Niente, ti apposto. Ciao. Allora. Ma c'è il rumore di un pallone, ma è una scatola, cioè. Ah, devo parlare un attimo? Vabbè. Riprendila, grazie. Sta friccherando tutto, il mondo e la vita. Bello sto cubo nero in faccia, mamma. Ma no, shadow. Come stai? Oh, shadow! Aspetta, io non mi muovo senza la mia scatola gommosa. Bastante. Mi piacciono i manichini, secondo me. Ma questa subia pure... Madonna. È una scatola. Una scatola? Una scatola? Sarà sparita Ci deve essere qualcosa qua dentro Dai, se no io ci lascio dentro Il libro che sembra troppo bianco per essere Così io non vorrei palparla però No, no, quello, quello a sinistra Time to die Ah no, è lost in Rome Hai sentito il suono rivelatore di qualcosa di... Hai una foto al manichino? Ah vabbè, ci abbiamo sta cazzo di cosa Non ho capito se è una meccanica che serve Non ho capito Manga? No, c'è, è lì il libro, non manga Qua c'era una... Oh regà, aspetta No, aspetta, aspetta Qua c'era una porta Sì, qua c'era una porta Ma No Eh, non c'è per il manichino Perché è un'altra stanza No, perché il manichino se nascosto qua In Crifuro, grazie Ciao Buon serata ragazzi Alla prossima mano che saluta Con la gastrite Ma sono convinta che sia un infarto, Andrea Sì, se ci andavi domani Ti dicevano che la spedivano dopo domani Signori Eh ma qua sta qui Appunto, di là c'è qualcosa Ah la cazzo Ah la credi Ma era aperta anche prima No Ok Sì Si era aperto quando è aperta la qua Chiusi dentro Ma mi fa Non mi fa Non sto capendo E qua non appare un cazzo Però 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 Jesus Christ No 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 Chi è chiusa la porta Leggi il Cosa che c'è sul Leggi il Giornale che c'è sul comodino Quando esce in corridoio sinistro Non so più come uscire da sto Allora Una misteriosa disapparence Dietro la vena foresta Praticamente Ciao Majin Bu Scomparsa Ciao collezionista Grazie per il forno Giori Grazie Bambolini Non li senti No non li senti Grazie Perché Poi c'era Gesù Giochiamo A Baizu Vabbè questa praticamente Giori è scomparsa Una famiglia devastata Ma sperano di trovarla viva I suoi problemi mentali Erano Gesù Cristo Grazie per le rose E poi c'è l'oroscopo mensile Grazie a me Hai trovato che c'era Gesù Cristo? Non ti avevo visto Gesù Cristo Da tanto che non ci vediamo Come sta? C'è Da un'ora fa Però ha nominato suo padre Ah ok E c'è l'oroscopo mensile Ditemi un po' il vostro segno Andiamo a vedere che cos'è Cosa come Ah noi siamo Cosa è successo a Gioly che è scomparsa? Io vorrei trovare il mio cane Non mi ricerca niente di Gioly Non è per cattiveria Ma Dov'è il mio cane? Eh Ma gli occhi non erano così brevi Ma gli occhi non erano aperti E non aveva Non stava bevendo Niente Giusto Ciao topo Buona serata Non ho capito Ah no era Per Gesù E' da tanto che non lo vedo No raga Allora a me Si cazzo di A me le ricombole Che non lo nomino I burattini E' una cosa che mi fa un terrore Ma un terrore Ma un cazzo di terrore Terrore Dai vai Non tanto non si muove Non toccate Mi dico Ah No si sono mosse E la mamma La mamma Oh mamma No non l'ho detto io Pensavo fosse A te non si muovono le foglie Sai quanto te menano fortissimo Ma si può chiudere sta porta Si può chiudere Mi sento più al sicuro Non avere quei cazzo E se devi scappare Non vado verso i manichini Sicuramente Chi è? Guarda la videocassetta Me la fate vedere in pace Sta cazzo di videocassetta Si Che belli divani così Scomodissimi Allora Ah no Come è che era il tasto destro? Inserto Playo Si ma la prima cassetta Che abbiamo visto Era una marmotta Che si lavava E magari anche quella È il continuo Di cosa fa la marmotta Ah no Ah allora C'è una signora che dipinge La signora dipinge Dipinge un quadro Si gira Si gira verso di noi Sparisce Guarda verso la camera Va bene È una cosa normale Da fare questa Si sta guardando Verso su Adesso sta lì Che sta cagando Non Siamo chiusi Siamo chiusi Oh cristiana Bastarda Non è possibile Si sta parlando di te Jenny Oh my god Oh my god Ah seriously Ma che andando C'è Ragazzi Ok Musano la porta Chi sarà male Andiamo a vedere Quel cazzo Però lui era dietro di noi Aspettate Mi può controllare il battito Giusto per capire Se sto muore Per favore No Per il pesce Ti scongiuro Potrei Ti prego Ti chiedo una cosa Mette gioco Lo fai dai Controlla per favore Mi scongiuro Signora Benissimo Accelerato Non è accelerato Non è possibile Mi sono cagato Ma Ah questa non si apriva Prima Non abbiamo trovato la chiave Io non so più nulla Di questo cazzo di gioco Ma dov'è che bussa Ma c'era il cazzo Che non c'è più il cane Anche a me Vorrei sapere Oh ma che bel balcone Ma che grazio Ma siamo passati Attraverso la No Era aperta Ma si è chiusa Giustamente Ma Ma ho pagato il gioco Non posso per ieri Mi aprite la cazzo Di fine Qualcuno bussa al vetro Signora Nella finestra Ci sono cose che io non vedo Perché Signora Signora mi apre Signora fa un freddo Bucchino qua fuori Mi apre Non è che hai sbagliato A schiacciare A breve Comunque c'è ancora La portiera aperta Tu mica l'avevi chiusa Sì ma non ho preso il prompt Ecco ma Ah ok Signora C'è che mi ha fatto lo schicchio Quel mona che mi ha chiuso Allora Il cane non c'è Perché si sono resi conto Di non saperlo programmare Sì Ma che tristezza Probabilmente Ma quanto è grossa sta casa E c'hanno i sordi Che ti devo dire Poi quando uno c'ha i sordi Poi impazzisce Un attimo Così No immagina se la rincorre Melio Con il burrettino lì Ci facciamo le risate Da qua 2028 Quindi va Lascia il gioco C'è proprio quitto Quitto il gioco Ciao Bella lì Mattia Ciao Mattia Melio Non augurarmi cose Che potrebbe fare il gioco Ma questa ci sta più Giustamente Scomparsa prima Vabbè Sparparo Amico suo Non devi cercare Quella stanza lì Adesso Quella del video Vabbè È sempre lì Lui Lascialo stare Ma si gira Ma si guarda Io non Non mi sento a mio agio Cos'è Non mi seguirà Non mi seguirà Qualcuno sta dipingendo Perché non ti ne apri il menu Qualcuno sta dipingendo Nella sala Della dipittura Che non ricordo Dove fosse Perché Ehm Do Qua Può essere Che c'è questa Ci vuole la mappa Come anche Resident Evil E questa No E Quella Quella buia Ma io Se non lascio il cane Orla Mattia Grazie mille Per il cuore Grazie Mattia Grazie mille Signora Ha cambiato il quadro Sio Ok allora Noi fotografiamo anche questo La signora Vuole essere L L'altra Lettera vera Aspetta Tu lo dico subito Aspetta Era un Qua Mattia Ma abbiamo la chiave Di un'altra porta Questa casa Bellissima Strutturata dagli stessi Archidetti Allora Questo c'è Si chiama Baisu E siamo Un investigatore Che aveva una volta Un cane Ma gli è stato rapito In questa casa Stiamo cercando il cane E noi stiamo cercando Sia il cane Che Di risolvere Apri io signora L'apri io Che succede Dov'è il mio cane Mi dia il mio cane Non è qua Oh Vabbè Accendi la luce prima Come l'ho aperta adesso Ma sei deficiente Ma questa è la chiave Mi è stata la prima volta Questa Sei rimasta dall'altra parte La chiave Con l'uomo nero Guarda che bello Mamma C'è Jolie Annabelle Jake L'uomo nero E la mamma Ne sapeva Basta Fermati Oh ma piasse In cazzo De canale Non vi dico Che dove deve Aria Gavo Ma cazzo Qualcosa C'è vede una cosa Il Gerry Scotti americano Non lo so Jesus Christ What the fuck Open it here If you know what I mean Fermi Fermi Stai Stai impazzando Stop police Ma chi Ma chi Stop police A chi Ma chi Te sei in cula Stop police Date mercane Ma che puoi anche Non urlare Non mi interessa Date mercane Madonna Ti chiamo a morte C'è scusa Hai sentito un vetro romper Sei giusto Sì L'unica cosa Che non hai fatto È guardare il vetro Che hai di fianco Ma pure che Ma ha rotto il vetro Qua no Sì ma magari Il mattone Qualcosa C'era qualcosa Ma non c'è Vedi un mattone Vedi Secondo te è un fantasma Bisogna lanciarmi un cazzo De bannattone Per rompere un vetro Per rompere un vetro Qualcosa Dovrà fare No Ha fatto saltare La luce qua Ah che cazzo Vedi guarda Eh Eh Potana Allora Qua non si è Search the house Ok Ma secondo me Non è Non è lei la cattiva È il maggior dono È il poliziotto Che poi si scopre Essere bravo Alla fine Che lui aveva salvato La ragazza Questa è una moto È una moto Che sta passando vuole Ok Uno nero che è bello Oddio dipende Oh Madonna Teniamo tutto Tutti i verali Sì così Fammi Dammi il Ui possiamo aprire La lavastoviglie E il forno No Non l'avrei manco a casa Quindi Dai Non è vero Adesso quando io metto Le poche cose Nella lavastoviglie Dici che non ti piace Come lo messe Quindi da dissociato Quale tu sei Devi rimettere Secondo il tuo ordine Quando il mio È per me Mediamente migliore Allora Io penso Che questa luce Si possa No Questa porta Ancora chiusa Questo è successo No Questo è successo Il successo si è aperto Sin dal principio Che ti fa capire Che Non gliene frega niente Non gliene frega niente A nessuno del successo Cioè Peraltro se te cagli Sotto a meno il successo È il lattaio Può essere Sai Che il lattaio Nessuno lo Nessuno si è accolto Che la figlia Assomiglia al lattaio Nessuno lo Calcola mai Il lattaio Non si è accolto Che Aspetta Aspetta Sta per arrivare Un jumpscare Ma non è che Sta flicchendo Sta Frizzando tutto Ok Nessuno si è accolto Che la bambina Assomiglia Pericolosamente Al lattaio Ok Vedi la te è bianca Adesso Qua a parte le chiavi Non l'hai trovato Ma guarda sulla tela Un attimo In bassa a destra Ah no Finché non disegniamo Ho come sentore Che la terza lettera Sarà una I Ho come home Dai Ah Diet Ah Chiari Conoscere la situazione Accendi la luce Non va Mi ha fatto saltare Tutti i cazzo De fusibili E vai a ricambiarli No Non è che abbiamo La scorta infinita Ah no Si ora Che devo fare Per avere la sua attenzione Arrivai su Non dà molti int Perché l'int è Search the house Eh si Cioè Soltanto in quella zona lì Si è spenta la luce In quella del quadro Allora io temo che No no La luce manca in tutta casa No In alcune parti c'è Ma lo senti anche tu O sto cominciando ad avere Allucinazioni uditive Può essere No questo lo sento anche io Dici Dopo un'ora Te ne appoggi Dici Ti è voluto adesso il dubbio Madonna mia Ti hanno fatto detective Ma cazzo funziona il poliste Partement della tua città Come Ti agami un po' Come Però spegno la radio Madonna mia Oh Che mal di testa No un'altra lettera E vabbè L'or 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 Carana Spero che questa lettera Ti trovi bene È da un po' di bianco Che noi non parliamo While è diventato white Vabbè Da quando tua madre è scomparsa La casa ha preso un Ancanni Una vita propria Ancanni Non capisco perché ha messo Ancanni Ho sentito che La sua voce dai muri Sì La sua voce dai muri Annabella scorsa notte Quando il mondo era in silenzio Perché? Ho sentito L'ho sentita ridere L'unico posto in cui mi sento sicuro È la mia Cabin in the Woods Ne hanno fatto quattro film con questo nome Ed erano tutti horror Quindi fai un po' te Se questo si sente insicuro Sicuro La Cabin in the Woods Ma anche così Sto perdendo La mia Mente Memoria La mia sanità mentale Anche il padre È impazzito Dopo che è scomparsa La mughiera Apri le porte Non ci entri Allora Prima di tutto Qua mi sentivo assicuro Perché Questa è della Leogrema È un cesso E solitamente Io mi sento assicuro Nei cessi Annabella si chiama Annabella è la figlia Sì è la figlia Non è la bambola Forse Annabella è l'unica Che è rimasta un po' normale Con me Ok Ne ho dubbi Di ciò Va beh Ma che cabina armadio Che hanno C'era una lettera Leggila Sì sì lo so Voglio prima Cara Annabella Non ce la faccio più C'era un ascensore Ma no Ma no Come è successo Mi sta Oggi Niente è successo Rumore Con interferenza Siamo nella 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 Baita di suo padre Ah nella cabin Eh beh Non mi sembra Casa Che voce demoniaca Che voce Suave Tesoro Tesorina Parlami così Non è quella che ci ha chiamato Una carbina armadio Senza scaffale E' il tè sul fuoco Quello E' il tè sul fuoco Ti è spessata la sedia Lo levo io 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 Ha rotto il cazzo Buttalo via Ok No No Non rimetterlo su lì Faccio quello che fa Perché sennò Se no Inizia a fischiare Se lo rimetti sul fuoco No Che senso Toglio Ma non me lo facevo Oh Senti eh No fai papà Fai 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 Mai disturbare Il padre Quando scrive ragazzi O quando Quando ti chiede una chiave Da 5 E tu dici piangi Perché non sai cosa ti ha chiesto Caranna Beh Non ce la faccio più Non posso più farlo Vabbè Sto diventando pazzo Quelle voci Queste Vabbè Sente cose Vede gente Shadow Ombre Con amore Non posso Spero che tu possa Dimenticare tutto questo Andare avanti Con la tua vita Mi dispiace Ma questo È un addio Non ce l'ha fatta E perché Sto l'incubo Devo vivere io Cioè Potete chiamare La vostra figlia Insomma È un'eredità Questa comunque No 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 Perché 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 Posso rientrare Nell'armadio E tornare al piano di so Evidentemente Ha risposto No Posso Ci sarà una porta D'uscita Desta casa di merda Per citarne una Come cazzo si esce Suona Di me Cosa Mi ricordo Dove si chiama quel Cosa Ma è fortissima È difficilissimo Da suonare Per chi non ha capito Eh vabbè Però Suonato È figo Perché Pare o no Standard Family size Garro Washboard Co Provisità La garro Dai provo a riaprire L'armadio Non ci paga neanche Aspetta La porta d'ingasso Sarebbe questa qua Ma non ci dà proprio Ok Mi posso Vabbè Signora Ho capito la situazione Grazie Vabbè Una delle due Ok Ma siamo ritornati L'ascensore Mi ha portato di nuovo Su Perfetto Una luce da notte Mi sono cagata in mano Sto vivendo questa cosa Veramente Puoi uscire Puoi uscire Cos'era sto La lettera La lettera Sennò ti fanno andare avanti Sapete che Papà È da un po' che non ti sento Giustamente Io ho risposto Non posso trovarti Non riesco a trovare il telefono Che è sempre disconnesso Sì bravo E Questa incertezza Sta prendendo Sta prendendo Il controllo di me E devo sapere Che tu stai bene Mi sono mossa In una nuova città Per continuare I miei studi E ho un nuovo Numero di telefono Provate a chiamare Il 4 1 5 1 2 1 5 1 9 Per favore Papà Chiamami Prima possibile Qualsiasi momento Giorno e notte Con amore Annabelle Non è mai arrivata La lettera del quadro Scusa Avevano i portatili Se scrivono quelle lettere Vabbè Un po' stanno Ti ho detto Che c'è un po' di cose Anacronistiche Poi erano lettere vecchie Anche il vestito di Annabelle Non è che era proprio No Ma erano lettere vecchie Jack si è ucciso Vabbè Questa Questa Cosa L'ha fatta in Un pazzire Forse lui ha cercato Di chiamare Annabelle Visto che c'era No Ah dobbiamo chiamarla No E chi cazzo Sui ricordi Vabbè lo metterai In automatico Sì dai Voglio crederci Anche io Non lo metterai in automatico Non lo metterai in automatico Il tele Ma non Io sono mediamente sicura Ripeto Che ci fosse un Un telefono qui No E qui c'era un Un modo per andare Un modo per andare Nera così Giuro Non ne ho idea Della Io me la ricordo Perché lo sai che mi ricordo tutto Però Ah C'è un telefono No No qui non c'è un telefono Vuoi vedere che in camera da letto Non hanno un telefono Lì Dov'è Destro Destro Ah no Destro Più destro Più destro No Magari Di fianco Perché c'hanno questi Televisori Non lo so Sono credo che Hanno il telefono Incesso Mannaggia Pitturicchio Eh Ok Non possiamo neanche sapere più Il numero di Annabelle È finita così Potremmo mettere in automatico Cosa è 1,9,6 C'è un cazzo di telefono qui Si il cane è diventato opzionale Praticamente Merda però Io volevo il cane Chiutti nell'armadio Magari ti teletrasporta Dove c'è un telefono Ma non è questo l'armadio di Narnia C'è un problema Ma io sono venuta da qua Ma qui Come puoi ben vedere Non c'è più la porta Dovrei far qualcosa qua Leggi un giornale Leggi una nota È quello che fa procedere sto gioco Ecco sto cazzo L'altro Allora Ma forse devo fotograffare Vabbè No Manco Manco No ma le foto Mi sa che valgono solamente per Per il quadro Vai in corridoio C'era qualcosa sul comodino Non è un comodino Un vaso Ming E' sempre la notizia Sì sì che lei è scomparsa Cerca nei cassetti Non lo so No nei cassetti non ce lo so Teletrasporto Ragazzi come sempre Voi che siete persone di cultura Se avete un'idea Una Questa è l'armadio Detto la detta Trasporto Ecco il cane Bella Entra Oh caga me però Bella Amore Cecina Amore Guarda papà Che ti fa Hai fatto i biscotti Biscotti Bella 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 Se mi ammazza nel cane Qua sotto me ne vado Bella Bella Oh signora Aspetta Non ci sto capendo Tu in cazzo Mi guarda Mi guarda Mi guarda L'avamo ritrovato il cane Il problema Che sei andato Un'altra volta Ma ho successo L'avevo uscito Che non c'era prima Quanti cessi Ci siamo ripersi Il cane Quella Passa un'altra volta A dipingere Mannaggia Signora Ma ha rotto I coglioni Lei e sti quadri Come capisse Signora Dov'era la stazza Dei cazzo Dei quadri Boh vomito La stazza Dei quadri Di qua No Di qua No Ah si questa Ecco Una bellissima casa Piccolina Io ho flashato Ci fosse Dio Dio Ha scritto veramente Dio La situazione È un po' D I O Enregus Le tre lettere Più il tuo animale È vero Cane Ghett è un ceffone O come si permette Sì Ho usato un ceffone Trovato Titone di coda Sì No io voglio il mio cane E Ok sì D I O Vabbè È andata così Allora Ehm Io non so Quanto sia lungo Effettivamente il gioco Sono sincera E All'Abra delle Venture 52 Con i cani Che sono usciti Troppo velocemente oggi Perché faceva troppo caldo Old Beh anche Old Potrebbe essere effettivamente Ehm Dobbiamo portare i cani Per la lunga passi giuata E Ehm Continueremo questo titolo Cercheremo di portarlo Alla fine Piccato perché io devo trovare il cane Allora Se qualcuno di voi sa Se succede qualcosa al cane Me lo dica subito Perché io abbandono Il gioco Alla velocità della luce E Può succedere tutto a tutti Ma non al cane Grazie a tutti Grazie a tutti